Il recuperatore di centrale ConfoSpot Il recuperatore di centrale è uno scambiatore di calore brevettato Zender entalpico ovvero non ha la formazione di condensa. Il fatto di non avere la formazione di condensa all'interno del recuperatore fa sì che lo scambiatore di calore ConfoSpot possa essere installato senza l'utilizzo di uno scarico condensa. Quindi è sufficiente portare un collegamento elettrico a 220 volt e collegarlo elettricamente per il corretto funzionamento. Si vedono bene anche i filtri di dimensioni adeguate per 50 metri cubi possono essere di filtrazione G4 o F7 per l'aria aspirata dall'esterno e quindi l'aria che viene messa in ambiente così come il filtro G4 per l'aria ripresa a garanzia di pulizia dello scambiatore. Stando invece sui recuperatori di calore centralizzati ovvero provvisti di una distribuzione raulica Zender ha presentato ad inizio settembre il Confo ARQ l'ultimo nato in famiglia Zender in fatto di scambiatore di calore ad altissima efficienza dove la Q sta ad indicare la qualità che ci proponiamo di inserire nel mercato.